Ciao a tutti, oggi prepariamo una merenda, caramella gomosa fatta in casa. Smolliamo la gelatina nell'acqua fredda. Friagliamo l'arancia a metà. Adesso spremiamo l'arancia. Aggiungiamo due cucchiai di zucchero e mescoliamo. Mettiamo la gelatina nelle nostre tarine. Poiché sciogliamo sul bagno maria. Versiamo nello stampo il succo di arancia. Mi piace aggiungere i fiocchi di cocco. E chiudiamo con lo yogurt. Settiamo nel frigo per mezz'ora. E tutto tiriamo fuori. Preparavo molto spesso per la mia cugina, lei le adorava. Provate a fare in casa pure voi. Grazie.